Storia della razza. I cani d'acqua sono conosciuti da molto tempo in molti paesi europei. Esistono diverse versioni della loro provenienza, ma nessuna ha una chiara conferma. Informazioni su cani a pelo duro che sanno nuotare bene si trovano in letteratura e pittura, a partire dal XIV secolo. Nelle illustrazioni, tali cani erano spesso raffigurati vicino a corpi idrici, determinando così il loro scopo. Gli esperti ritengono che Barbet fosse l'antenato di molte razze canine, tra cui il barboncino, il bicon frise, il cane d'acqua portoghese, lo spaniel d'acqua americano e altri. I club della razza Barbet si sono formati alla fine del XIX secolo, allo stesso tempo questi cani hanno iniziato a partecipare a mostre. La prima esposizione canina riconosciuta ebbe luogo in Gran Bretagna nel 1859, e nel maggio 1863 l'illustrate London News riportò la prima mostra a Parigi, e presentava anche un disegno del cane da caccia francese Barbet. La rassegna dello spettacolo di Parigi li ha classificati nella terza categoria, cani da caccia e da ricerca, classe 24, sotto sezione 1, Big Barbet Terusian Barbet. Il primo standard conosciuto per la razza Barbet risale al 1894. La prima e la seconda guerra mondiale sospesero le attività degli allevatori di cani, poiché tutti i cacciatori, i guardacaccia e gli allevatori di cani, entrarono in guerra, e i cani divennero un lusso che pochi potevano permettersi. A quel tempo, la maggior parte delle razze, allevate scomparve o erano sull'orlo dell'estinzione. L'allevamento e la formazione della razza conosciuta oggi come Barbet furono fortemente influenzati nel 1920 da un cacciatore di nome Leveller. Successivamente, il lavoro sulle vival di Barbet fu continuato dal dottore Vincenti, che nel 1930 registrò i suoi cani come Barbet de Arretos e Arc Barbet. Dopo la sua morte, sua figlia Madame Petra fu coinvolta nell'allevamento di Barbet. Nel 1977, Hermans di Parigi, tentò di allevare la razza Barbet che più si avvicinava al loro antico prototipo. Nel 1980 ha fondato il Barbet che nel club in Francia, e ne è diventato presidente. A seguito di numerosi incontri, a Barbet è stato dato il nome Frank Waterdog per distinguerlo dai Waterdog spagnoli e portoghesi, nonché dagli Irish American Water Spaniel. Secondo Hermans, i cani dell'allevamento di Petra non corrispondevano alla vera razza Barbet, perché avevano il pelo sbagliato. Di conseguenza, apparvero due linee della razza Barbet, una delle quali proveniva dall'allevamento Petra, e l'altra era allevata da Hermans. In seguito, nonostante le proteste, questi cani si incrociarono tra loro, e ricevettero buoni risultati. Dal 2004, l'influenza di Hermans cessò e tutto il Barbet iniziò a essere autorizzato a mostrare alle mostre. Il Barbet, o barboncino da caccia francese, è una razza di cani da caccia da caccia conosciuta fin dal IV secolo. Si ritiene che questi cani discendano da antichi cani d'acqua. Barbet ha una lana impermeabile che li aiuta a nuotare a lungo. Questi cani, senza esitazione, si arrampicano anche nell'acqua gelida. Grazie alla loro passione per la caccia, e alla capacità di recuperare, sono ottimi assistenti per i cacciatori. Punti salienti e fatti interessanti. Il Barbet è stato riconosciuto dalla AKC nel gennaio 2020, ed è la sua 194esima razza. Barbet ha ricevuto la designazione di gruppo sportivo. Barbet è analergico e non perde pelo. Questa razza ha contribuito alla lingua francese, la frase être crôté commun Barbet significa essere molto molto sporco. La loro malizia li porta in luoghi fangosi e paludosi, tanto che la razza viene soprannominata Cane Sporco. Barbet è l'antenato di Pootle, Bicon, Griffin, Oteround, Terranova, Briarde e molti altri. Enrico IV, re di Francia tra il 1589 e il 1610, amava pescare con il suo Barbet. Barbet è stato ammesso alla competizione AKC dal primo gennaio 2010. Aspetto. Barbet è una razza rara. La maggior parte dei Barbet, specialmente quelli alle fiere, sono tutti neri, bianchi e neri o marroni. I cani con manto nero o marrone hanno spesso macchie bianche sul petto o piedi bianchi. Colori accettabili della razza. Nero solido, marrone, fulvo, grigio, fulvo pallido, bianco. Sono ammesse tutte le sfumature di rosso e fulvo e fulvo pallido. L'ombra dovrebbe preferibilmente corrispondere al colore del corpo. Il grigio e il bianco sono estremamente rari. I colori misti, diversi dal bianco, sono considerati un difetto. I colori più comuni sono il nero o il marrone con macchie bianche. Nel 2007 ci sono state 176 nascite in tutto il mondo. Tutti i nati erano neri o marroni, alcuni con segni bianchi sul petto, sul mento e sulle gambe. I maschi di Barbet di solito, crescono da 53 a 64 centimetri di altezza, e da 18 a 27 chilogrammi, mentre le femmine di solito, raggiungono da 51 a 58 centimetri e da 14 a 23 chilogrammi. Tratti caratteriali distintivi. Barbet è descritto come amichevole, gioioso, obbediente e intelligente. Imparano velocemente e hanno bisogno di un addestramento all'obbedienza per tutta la vita. Vanno d'accordo con i bambini, le famiglie e gli anziani. Barbet sarà legato alla sua famiglia, e preferirà essere sempre nella stessa stanza con la sua famiglia. Sono abili retriever per la caccia agli uccelli acquatici. Barbet può sostenere il test di destrezza naturale, il test di recupero dell'acqua di base, e il test generale del cane da caccia con test sul campo e in acqua. In Germania, Barbet partecipa a prove sul campo. Manutenzione e cura. Barbet prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. La corretta cura del Barbet inizia con una spazzolatura completa e un buon bagno. L'asciugatura dopo il bagno liscia i capelli e prepara la peluria per il taglio con le forbici. È preferibile un taglio solido di circa 3 maggio pollici di lunghezza per mostrare la forma del corpo, mentre la testa, le orecchie e la coda rimangono più lunghe. Per partecipare alle mostre, i capelli sulla testa devono raggiungere il muso. Dopo la tosatura, il manto deve essere bagnato e lasciato asciugare all'aria per ripristinare il suo aspetto naturale. Le unghie forti e a crescita rapida di Barbet dovrebbero essere tagliate regolarmente con un tronchese o un temperamatite per evitare la crescita eccessiva, la delaminazione e la rottura. Le orecchie devono essere controllate regolarmente per evitare l'accumulo di cerume e detriti che potrebbero causare infezioni. I denti devono essere lavati regolarmente. Allevato come Swamp Gamer Retriever, Barbet è un atleta agile e un partner fedele in qualsiasi attività, in particolare legata all'acqua. In effetti, ha i piedi palmati appositamente per il nuoto. Oltre al nuoto, altre opzioni di esercizio includono giocare in giardino, preferibilmente recintato, o camminare più volte al giorno. L'esercizio fisico può anche assumere la forma di attività indoor come nascondino, rincorrere una palla che rotola sul pavimento o imparare nuovi trucchi. È più felice quando è ben socializzato e preferisce non passare troppo tempo da solo. Il Barbet ha bisogno di un'interazione positiva e di un ambiente di allenamento ottimista poiché la razza ha un temperamento empatico ma equilibrato. La formazione dovrebbe essere un compito relativamente semplice in quanto i Barbet sono amichevoli, reattivi e accomodanti. Agiliti, rally, dockdiving e lurecoursing sono tutti sport in cui Barbet partecipa con successo e mostra buoni risultati. Salute. Il Barbet ha una struttura solida con abbastanza ossa per svolgere i suoi compiti come un vero cane sportivo. Dato il piccolo pool genetico che costituisce il Barbet, questa è una razza straordinariamente sana grazie a una selezione saggia e attenta. Scraining degli allevatori responsabili per condizioni di salute come displasia dell'anca e delbo, atrofia progressiva della retina, disturbi convulsivi e allergie. Prezzo e come acquistare correttamente. L'età ottimale in cui i cuccioli sono pronti per lo svezzamento dalla madre è di un mese e mezzo. Al primo incontro, assicurati di prestare attenzione al comportamento del cane. Uno stile di vita attivo, un aspetto sano e il desiderio di giocare, sono segni che questa è l'opzione giusta. Durante la conoscenza dei cuccioli, non sarà superfluo controllare i documenti disponibili per chiarire lo stato di vaccinazione. Un fatto importante. Dovresti assolutamente prestare attenzione alla pelliccia dell'animale, alle condizioni dei suoi occhi e delle sue orecchie. L'acquirente dovrebbe chiarire la dieta della madre, le abitudini alimentari e le preferenze dei cani. I cinologi consigliano di acquistare un cucciolo in un canile specializzato. Quindi è molto più probabile che acquisti un cucciolo con un pedigree da buoni genitori, che sarà forte e sano. Presta attenzione a come si comporta il cucciolo tra i suoi parenti in condizioni naturali, a come comunica o gioca con loro. Monitora il comportamento alimentare del tuo cucciolo scelto. Forse il cucciolo ti ricambierà e mostrerà interesse per te come potenziale proprietario. Se ciò accade, non esitare e acquista. Il prezzo medio per un cucciolo è di 2500 al 2800 dollari. Linea di fondo. Il barbet, o cane da acqua francese, è un raro cane di taglia media che veniva utilizzato da marinai e agricoltori in Europa per lavoro, e con loro cacciava anche uccelli acquatici. I barbet non hanno paura di entrare in acqua, nuotano bene, sono resistenti e hanno buone qualità di ricerca. Il nome barbet deriva presumibilmente dalla parola francese barbe, che significa barba.